Siamo qua il giorno dello sciottolo generale per fare un'azione un po' dimostrativa e soprattutto per mandare un messaggio al Presidente Monti. Siamo tutti presenti, io sono un insegnante e vorremmo mandare questo messaggio al Presidente. Sicuramente lui dovrà fare dei tagli, tutti se lo aspettano, ma si ricordi che lui verrà ricordato non per i soldi che ha tolto, non per i tagli, ma per i soldi che ha messo e quindi è lì che si gioca la partita. Dove metterà i soldi? Dove investirà? E la scuola è uno di questi posti. La scuola non si deve tagliare, la scuola è il futuro e noi ci aspettiamo qualcosa da lui, siamo speranzosi ma anche controlliamo. Non controlliamo solo nelle fabbriche, nei cantieri, nelle scuole, ma stiamo anche sui tetti dell'Università, sulle gru, in cima agli archi, sui monumenti e di lì lo osserviamo e lo guardiamo dall'alto. e la scuola è la scuola. e la scuola. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti